Ciao ragazzi e ragazzi e benvenuti in questa nuova giornata dell'8 di novembre 2022 dove analizzeremo praticamente le principali notizie e soprattutto i problemi relativi alle sceneggiate di drammi delle commedie napoletane tra Binance ed FTX veramente al limite dell'incomprensibile che naturalmente lascia far si traspare un certo senso di delusione sul fatto che in un mercato comunque così piccolo veramente ci siano situazioni di litio di persone o aziende che facciano questo tipo di atteggiamenti che vanno praticamente a dampare token solo su scaramuccia di un certo tipo scaramuccia di un certo tipo che adesso andremo ad analizzare soprattutto andiamo subito a visualizzare su FTX il grafico su TradingView andiamo subito su FTX FTX naturalmente direttamente su Binance vediamo perché è quello che ha fatto dampare vendendo tutti i token FTX contro il dollaro vediamo un attimo vedete come la candela è abbastanza poderosa la discesa di FTX che va verso i 17.20 anche se ha toccato un picco dei 15 dollari vediamo subito che FTX effettivamente potrebbe andare a toccare gli 11 dollari per chi non avesse dimistichezza naturalmente su questa tipologia di analisi e quindi ha bisogno magari del volume profile per verificare un attimo delle tendenze del dei grafici e quindi anche del di dove potrebbero i compratori e le editori combattere per raggiungere un certo tipo di equilibrio vediamo subito che con il volume profile all'interno di go charting.com in modo molto gratuito quindi anche cerco di dare suggerimenti dove non è necessario magari comprare per avere un'idea per coloro che magari hanno difficoltà a visualizzare subito a prima vista il tutto vedete che comunque sia grafico non mensile ma giustamente giornaliero abbiamo praticamente una tendenza di questo tipo andiamo un attimo a vedere praticamente il i volumi che sono presenti sono intorno ai 10 dollari vedete che qui come dicevo detto 11 ma comunque qui il picco successivo dopo questa caduta che proprio corrisponde esattamente a questa zona dove ancora ci sono i volumi fino ai 15 dollari al di sotto dei 15 dollari poi si va verso i 10 9 da queste indicazioni non credo che FTT vada giù in collasso perché a quel in quel punto ci sarebbero giustamente problemi per coloro che detengono i soldi nel proprio exchange FTTX quindi bisogna anche valutare cosa potrebbe accadere in queste circostanze e proprio per darvi un supporto di lettura andiamo subito su criptopanic.com che pone l'attenzione sulle informazioni relative ad FTTX quindi andiamo subito su questo grafico e dice perché FTTX sta crashando 600 milioni di dollari fuoriusciti dal market di FTT quindi dalla market cap in un solo giorno andiamo a vedere questo è un articolo di 18 minuti fa che lascia naturalmente fa capire cosa potrebbe accadere vediamo un po di leggere l'articolo per coloro che hanno sempre problemi nella lettura dell'articolo in inglese andiamo subito a tradurre con google translator dovrebbe tradurre e una volta tradotto l'articolo abbiamo possibilità di andarlo ad analizzare nel dettaglio titolo che già abbiamo analizzato ma andiamo a vedere cosa sta uscendo fuori di notizie cioè con la controversia in corso tra i due importanti scambi di criptovalute exchange Binance ed FTTX che quest'ultimo c'è e Binance ha scaricato per 500 milioni di dollari il token di FTTX e FTT non sorprende che quindi il prezzo del token e la capitalizzazione di mercato stiano comunque subendo un duro colpo e la capitalizzazione di mercato di FTTX è scesa da 2.99 miliardi a 2.36 in solo 24 ore poiché il prezzo del token è diminuito di oltre il 20% nello stesso periodo secondo i dati risultati dalla FIMBOLD nel 20 di novembre in altre parole il token nativo della piattaforma di trading di criptovalute di Sam Bankman, Fried, ha perso 630 milioni di dollari dalla sua capitalizzazione di mercato facendolo crollare del 21.07% in un solo giorno secondo naturalmente il grafico che è indicato da CoinMarketCap. Allo stesso tempo FTTX sta passando di mano al prezzo di 17 dollari anche se ha toccato un punto di minimo di 15 e quindi significa un callo del 22,95% nel giorno e una perdita del 33.95% durante la settimana con un callo cumulativo quindi importante di oltre il 28% nel mese ovviamente. Quindi ragazzi che fino a fatto FTTX in precedenza è emerso che l'impero commerciale di Bankman, Fried, comprendeva due grandi indietà. Lo scambio di valuta con l'exchange FTTX e la sua società di trading alla Made of Research il cui collegamento è stato confermato nei dati finanziari di Alameda Research che aveva un consistente patrimonio in token FTT. In risposta a tale rivelazione il 6 novembre il CEO di Binance Champeng Zhao ha annunciato la decisione della società di liquidare qualunque FTT rimanente nei suoi libri contabili con la quale ha preceduto in seguito vendendo 22 milioni rotti, quasi 23 milioni di FTT per un valore di 584 milioni di dollari. Nel frattempo il CEO di FTTX è andato su Twitter il set di novembre affermando che un concorrente sta cercando di inseguirci per false voci aggiungendo che FTTX fa bene e i beni vanno bene. Cioè probabilmente non ha problemi di alcun tipo. Binance non c'è guerra, comunica che non vuole fare la guerra con FTTX eccetera eccetera. Vedremo come andrà avanti. Il discorso è questo, se dovessero ulteriormente andare giù gli FTT token anche magari con un discorso di leva oltre certe misure il token potrebbe dampare ulteriormente, potrebbe creare dei problemi FTTX anche se dai Twitter di FTTX sappiamo che il CEO di FTTX ha dichiarato che non ci sono assolutamente problemi di alcun tipo. infatti dice qua SBF, quindi il CEO Bankman Fried di FTTX, a competitor is trying to go after us with false rumors. FTTX is fine, assets are fine. Quello che dicevano è già tradotto in italiano precedentemente. È un tweet che dice praticamente che un competitor sta tentando di far collassare praticamente con dei rumors falsi FTTX. In realtà FTTX sta bene, gli asset stanno bene, quindi tutto quello che c'è all'interno non ha problemi di alcun tipo, almeno così ci viene detto dal punto di vista del sistema. Poi altre notizie, naturalmente anche un po' precedenti, sono comunque presenti, addirittura anche di un trilione di Shiba sono stati mossi da FTTX. Quindi qua praticamente c'è un articolo che dice che anche Shiba è stato mosso direttamente da FTTX che adesso non dovrebbe, andiamo a leggere anche l'articolo, ecco se vogliamo anche nel breve, il Trillion Shib moved from FTTX prima del grosso prelievo che c'è stato, quindi stiamo parlando di circa un trilione di Shiba, per la precisione. Questa è la quantità che è stata mossa da FTTX. Quindi ragazzi effettivamente potrebbe esserci qualche problema. Ora FTTX sta limitando i prelevi a massimo 1000 dollari, which might mean that the exchange has become insolvent. Quindi ragazzi effettivamente se non vi sentite sicuri e volete quindi trasferire i soldi in un altro exchange, fatelo pure. Ricordate pur sempre che se non avete le chiavi perché le state detenendo presso un exchange, no your keys, no your money, significa proprio non avendo voi le vostre chiavi non avete controllo e quindi anche la proprietà dei vostri soldi. Quindi se FTTX ha limitato i prelevi a 1000 dollari, il che potrebbe suggerire che lo scambio è diventato insolvente. Un totale di 184 miliardi di, vediamo, 3, 6, 9 di Shiba sono stati spostati da Coinbase a un portafoglio anonimo e l'importo di 108 miliardi di Shiba è stato poi spostato da un portafoglio a un altro secondo i dati di Earthscan. Quindi ci sono delle informazioni che non lasciano, diciamo, non è molto sicuro quello che sta accadendo in questo momento. Di certo è che se andiamo a visualizzare il prezzo, siamo a 17.01, sapete che ci possono essere anche dei dump dovuti ai future, quindi a dei discorsi di speculazione short in leva, quindi anche leva pesante, potremmo anche dirlo. Quindi lotta tra exchange, nulla da eccepire, però lascia la mare in bocca sul fatto che un mercato così piccolo possa accadere fenomeni così importanti. Dal punto di vista invece della complessità, sappiamo subito che il mondo crypto è comunque sceso in totale con non soltanto FTT, anzi Solana che sarebbe una seconda moneta posseduta dalla Metal Research ha subito anch'essa un meno 10% di caduta, quindi anche lei ma seppur meno ha subito un crollo. Quindi ragazzi FTT ha subito questa discesa. Lo stesso dicasi anche per Bitcoin che possiamo anche andare a visualizzare subito come direttamente anche su FTTX. Vediamo il movimento di FTTX qual è stato. Vedete niente di che il movimento è stato prevalentemente di questo tipo, cioè un movimento assolutamente in linea con la tendenza, è salito leggermente al di sopra dei 21.000, è rientrato al di sotto testando di nuovo i 19.200, circa 19.300 come supporto. Adesso si ritrova, vediamo in queste condizioni, sapete come la penso, cioè se testiamo continuamente il prezzo praticamente ormai da agosto e che balla nell'intorno di questo valore di supporto, più volte il prezzo va a ritestare questo valore, più è facile che il prezzo vada a rompere al di sotto e non al di sopra, quindi non dovete pensare positivamente se il prezzo non sale al di sopra, prima dei 25.000 e poi per stare sicuri dovremmo dire anche 28.000 barra 30.000, ecco questi sono i valori come guardate, proprio questo è un valore in cui uno potrebbe pensare di avere di nuovo una certa posizione, non dico sicura, ma un po' migliore rispetto a prima, quindi siamo molto lontani dal poter dire che il prezzo non corre il rischio di dampare, quindi ragazzi il discorso è abbastanza chiaro. Quindi su Crypto Panic abbiamo avuto degli aggiornamenti che ci ha fornito indicazioni di quello che sta accadendo, leggiamo quest'ultimo articolo relativo, vedete qui l'immagine di Champeng Zhao, CZ che parla sulla sventita dei token FTX che su questo articolo di QZ.com descrive proprio come una paralisi dell'industria delle criptovalute a causa di questo dumping, questo dump che c'è stato proprio di FTT, quindi Champeng Zhao ampiamente noto come soltanto con la cronimo CZ ha twittato in modo criptico perché a causa delle recenti rivelazioni che sono venute alla luce abbiamo deciso di liquidare FTT rimanente sui nostri libri contabili, riferendosi al token emesso dalle criptovalute che rivale, oltretutto rivale scambiatore di exchange FTX. Binance quindi ha ricevuto 2,1 miliardi di dollari equivalenti in contanti Binance Dollari e FTT dopo la sua uscita dall'equity FTX lo scorso anno. Praticamente aveva finanziato FTX e aveva ricevuto una certa quantità di token. La società deteneva 23 milioni di token FTX per un valore di circa 529 milioni di dollari in base al suo prezzo di quel momento. Ha riferito Bloomberg citando persone che hanno familiarità con tale problematica. I token FTX poi sono stati scaricati nell'arco di poco tempo in modo da ridurre al minimo l'impatto sul mercato ma l'impatto si fa già sentire nel travagliato mondo delle criptovalute. Perché? Perché le preoccupazioni per la salute dei token FTX sono aumentate da quando sono stati esaminati libri contabili della società di trading Alameda Research. Il suo bilancio è pieno di FTT secondo un rapporto di CoinDesk e anche se non è una preoccupazione indipendente c'è un dettaglio che cambia le cose. Alameda Research ed FTX hanno una cosa in pratica o meglio una persona in comune Samuel Beckman Fried noto come SBF. La società di trading e lo scambio di criptovalute sono quindi entrambe sue. Invece nel successo di Alameda Research che dipende da una valuta fiat e da un'altra criptomoneta è fortemente dipendente dalla sua consociata. Infatti dei 14,6 miliardi di asset della società al 30 di giugno FTT era il più grande con 3,66 miliardi ed FTT collaterale quindi era il terzo più grande con 2,16 miliardi come valore dei libri contabili detenuti con questo tipo di moneta. Nei suoi 8 miliardi di dollari quindi ci sono 292 milioni di FTT bloccati e quindi ha sottolineato la pubblicazione da parte delle criptovalute da parte del giornale CoinDesk. Queste domande sull'insolvenza di E possibile Alameda potrebbe essere ciò che ha guidato la decisione di Changpeng Zhao di liquidare tutto perché è insolvente a causa di questa situazione contabile. Samuel Beckman Fried quindi ha peggiorato le cose diciamo che non ha aiutato il fatto che i dati finanziari della media si siano stati messi a nudo giorni dopo che Bankman Fried stava affrontando una pesante contraccolpo da parte del settore per aver suggerito tattiche normative che avrebbero essenzialmente ucciso la DeFi. La finanza decentralizzata si riferisce a offerte automatizzate basate sulla blockchain per servizi che spesso in questi giornali descrivono ma spero che coloro che mi seguono conoscono bene che cos'è la DeFi. Il danno pubblico per seme è stato immenso perché soprattutto considerate che molte persone utilizzano la DeFi, le Ledger e soprattutto anche Binance detiene in un'enormità di interessi sviluppando giochi il suo DEX decentralizzato quindi probabilmente c'è stata una lotta tra chi ha anche interessi nel mondo DeFi e chi FTX sapete non ha interessi nel mondo DeFi o minimi. Quindi SBF ha reagito alle preoccupazioni del concorrente in un tweet affermando che FTX va bene e i loro beni stanno bene. In un altro posto ha aggiunto che FTX ha abbastanza tutto per coprire le partecipazioni dei clienti e quindi non ci sono problemi in questo momento e quindi c'è una sorta di guerra tra Binance e FTX che è negativa naturalmente per l'industria l'ho detto naturalmente prima, lo ripetono e lo scrivono anche come ben vedete i giornali perché non è positiva una situazione del genere, sembra proprio di vedere e combattere bambini di 5 anni e questo è mio e questo è tuo, questo non mi piace e se non piace a te allora ti faccio del male e ragazzi purtroppo la situazione sicuramente non è delle migliori. Quindi naturalmente questo è il valore del sell off di Binance che è importante. Quindi concludo anche all'interno del sito CryptoQuant che fornisce naturalmente delle informazioni notevoli anche dal punto di vista di grafici, di come si sta muovendo il mercato. Se vi sentite poco sicuri, ribadisco no your keys, no your money, se non vi siete sicuri di FTX e potrebbe diventare insolvente naturalmente è preferibile se avete questa decisione, questo pensiero di spostarli su un altro exchange o direttamente sulla vostra chiave privata. Alla conclusione dal punto di vista del grafico dei flussi di scambio che ci sono in generale abbiamo da dire, anzi devo chiudere un attimo l'italiano perché non lo comprendo exchange plus ecco direttamente, exchange riserva, vediamo un attimo il flusso di exchange teletransazioni, prelievo, perfetto sto guardando e visualizzando il prelievo di tutti gli exchange di Bitcoin in queste circostanze. A noi non interessano il Bitcoin, le rendono tutte le stable coin perché di solito si esce fuori dalle crypto e si va verso le stable coin. Vediamo la piattaforma FTT, come potete osservare, FTT come valore è a 16 dollari circa, quindi l'uscita di questo valore rispetto al massimo valore di prelievo, del numero di transazioni che vedete era il massimo avuto come picco l'8 di settembre del 2021, diciamo che è ancora più basso rispetto al picco che abbiamo avuto l'8-9 di settembre del 2021 eppure non ci sono stati questi problemi, gli unici problemi potrebbero essere connessi col fatto che il prezzo è dampato a meno di un terzo perché si trovava a un valore di circa 60 dollari, adesso ci troviamo intorno a un valore di 16 dollari, price USD, quindi attenzione a quanto dice anche i valori da monitorare, ragazzi monitoratelo anche voi per la vostra attenzione, per la vostra sicurezza. Ciao, grazie e alla prossima!